Ma è da qualche tempo c'è in discussione al Senato una legge per aggiornare la normativa relativa al spandimento di fanghi in agricoltura, un disegno di legge portato avanti dal senatore Pavese Luisa Alberto Rillana e nella discussione un punto importante è stato messo da ARPA Lombardia, l'agenzia regionale che si occupa appunto di ambiente e che ha confermato la La normativa attuale è troppo vecchia, dicendo anche parole che non lasciano per niente tranquilli su quelli che sono i controlli attuali, come possiamo capire con il servizio di Ermanno Bidone Anche per l'ARPA le norme per il controllo dei fanghi non sono sufficienti perché basate su conoscenze tecnico-scientifiche degli anni 80. È quanto riferito dal senatore Orellana, firmatario del disegno di legge che punta ad aggiornare ed uniformare sul territorio nazionale le norme sull'utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura. Nel corso dell'audizione in Senato ha detto il senatore Pavese ARPA Lombardia ha spiegato che la normativa attuale non mette in condizioni un ente di controllo di valutare efficacemente la qualità dei fanghi così da garantire l'assenza di pericoli sul loro utilizzo. Un altro aspetto importante, ha detto ancora il senatore, è quello di armonizzare le norme regionali in materia per garantire la sicurezza dell'ambiente e della salute. Ma di fanghi si è discusso anche giovedì in regione per sulla sesta commissione ambiente con la presenza degli assessori terzi e del suo omologo all'agricoltura Fava. Secondo il consigliere Pavese del Partito Democratico Giuseppe Villani, oltre a controlli più approfonditi bisogna anche ripensare la quantità degli impianti presenti in provincia di Pavia partendo dal concetto di autosufficienza. Ce ne sono già e se ne stanno autorizzando altri, ha spiegato Villani, e serve anche più partecipazione da parte dei cittadini lombardi.